Civica è questo il nome della nuova biblioteca di Calenzano. La struttura, in via della conoscenza, è stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 9 maggio dal sindaco Alessio Biagioli e dall'assessore alla cultura Irene Padovani alla presenza di tantissime persone. Per la sua realizzazione sono serviti oltre 3 milioni di investimenti. È grande, 1350 metri quadrati, ha un cortile esterno, 250 posti a sedere, 4 postazioni internet, una sala polivalente per presentazioni e concerti e uno spazio per bambini. Sì, è una struttura che mancava in queste dimensioni. Noi ormai da anni stiamo lavorando a questo progetto in ogni suo minimo particolare. E' una giornata importante perché proprio nel centro, in un luogo molto accessibile, fatto con le migliori tecniche costruttive, fatto con strumentazioni e con uno spazio open space, come potete vedere, darà spazio a questi 1300 metri della nuova biblioteca. Prima del taglio del nastro, molti abitanti di Calenzano si sono ritrovati in Viagiotto per trasferire gli ultimi libri dalla vecchia sede a quella nuova. I servizi della biblioteca riprenderanno lunedì 18 maggio, ma nella prima settimana dell'inaugurazione sarà comunque possibile consultare libri, giornali e riviste.